Amici del Biancorriero.com ben ritrovati da Cristiano Corbo, è appena terminata Juventus PSV, la prima giornata di 8 e la prima fase della Champions League. Intanto bentornata Champions, bentornate certe emozioni, certe notti, certe serate, anche in questo caso certe vibrazioni in generale, perché questa è la notizia più forte che la Juve si porta da questo 3-1 importantissimo, non solo ai fini della classifica perché comunque contava iniziare bene, questa è una delle partite magari più abbordabili del percorso che la Juventus avrà da qui in avanti, però era importante partire bene per dare un segnale, per dare un segnale soprattutto rispetto alle ultime due prestazioni in campionato, perché inevitabilmente i 2-0-0 hanno avuto un peso, hanno generato anche un velo di preoccupazione per la squadra bianconera, velo di preoccupazione che Tiago Motta ha strappato in mille pezzi e ha portato avanti, soprattutto fidandosi delle sue idee, delle sue intuizioni. Una su tutte, naturalmente, quella di Weston McKennie, era stato provato ieri, è stato confermato nell'11 titolare ed è andato in gol, è andato in gol Kenan Hildiz, sul quale comunque c'erano state un po' di critiche nell'ultimo periodo e poi è andato in gol Nico Gonzalez, che è il grande acquisto offensivo, oltre a con Meners chiaramente, ma era l'uomo da cui ci si aspettava il cambio di passo, non solo dal punto di vista proprio dell'andare in gol, del bottino più importante, ma anche dal punto di vista mentale, quel giocatore che tra le linee effettivamente poteva fare la differenza. Andiamo subito sulle pagelle di questo 3-1, ricordiamo, molto molto importante sia ai fini della classifica, ma anche e soprattutto per iniziare con uno sprint niente male questo percorso in Champions. Partiamo da Di Gregorio, Di Gregorio che prende un solido 6, perché comunque non ha corso tanti pericoli, nel finale c'è stato soltanto di fatto quel tradimento generale della difesa in un momento di appagamento generale, quindi Di Gregorio che è sempre sembrato molto sicuro, molto solido, soprattutto con quella parata uovo a guscio, si chiude attorno al pallone per rendere la parata più sicura possibile. Andiamo a Pier Calulu, 6,5, altra prestazione molto molto importante, molto solida, pronti via, un filtrante, un'intuizione, un guizzo, anche dal punto di vista offensivo sembra un giocatore che può dare manforte come a questa squadra, soprattutto nella prima impostazione. Centrali, Bremer 6,5, così come Gatti, pochi pericoli corsi, De Jong, anche lui molto deludente per il PSV, però anche loro chiusure importanti, anticipi, da questo punto di vista la Juve davvero si ritrova un tesoro difensivo niente male e il gol subito è più casuale che, insomma, frutto di un errore, poi parleremo chiaramente anche della situazione di Danilo che era un pochino in ritardo, però proprio sui centrali la Juve può fare poco, anzi sono i giocatori che hanno dato maggiori risposte in questo momento. Andrea Cambiaso, un passettino indietro rispetto alla prestazione straripante di Empoli, ma anche lui vagava nel deserto nell'ultima partita, stavolta era inserito, incastrato in un contesto che funzionava, lui solitamente si esalta in queste condizioni, quindi si prende un solido 6,5, una partita in cui non deve strafare, ma deve limitarsi anche a gestire anche la fatica, per certi versi, ma anche a gestire soprattutto la fase difensiva. In mezzo, ecco, qui iniziamo anche ad alzare un po' i toni, così come i voti, perché inevitabilmente la partita di Weston McKennie si prende un po' la scena, perché è stata la scelta sorpresa da parte di Tiago Motta. Ma McKennie, che è stato molto più pulito rispetto a tante altre volte, rispetto soprattutto all'anno scorso, non è più un giocatore anarchico e prende un bel 7, impreziosito naturalmente dal gol, ma anche lui deve ancora un po' secondo me trovare la quadra, deve incastrarsi bene in questa squadra, era la prima da titolare, quindi da questo punto di vista i primi segnali sono assolutamente positivi. Manuel Locatelli continua sulla scia delle ultime ottime prestazioni e prende un 6,5. Di Locatelli mi sorprende il fatto che abbia cambiato completamente mentalità, non cerca più il passaggio facile, cerca il passaggio più intelligente, l'imbucata tra le linee, quel tocco che può fare effettivamente la differenza e può velocizzare il gioco della Juventus. Andiamo ancora in avanti, andiamo a Thun Kopp-Mainers, che è il padrone del centrocampo, magari non si vede tanto, magari si vede soltanto a sprazzi, però Kopp-Mainers ha già preso in mano il centrocampo della Juventus, soprattutto detta i ritmi del gioco e anche per questo si prende un 6,5 molto, molto, molto meritato. Sugli esterni, ecco, Kenan Hildiz e Nico Gonzalez sono stati i miei migliori in campo, 7,5 per entrambi. Partiamo da Hildiz, ha battuto il record di precocità di Alessandro Del Piero, ha fatto un gol pazzesco alla prima in Champions, è un giocatore dal futuro praticamente assicurato, ma dal presente molto, molto importante. Non pensiamo sempre e solo alla carta d'identità, non lo fa Tiago Motta perché lo dovremmo fare noi. Da questo punto di vista la risposta di Hildiz è stata pazzesca per personalità, per colpi, per genialate in campo, pronti via anche lui, tunnel e poi si è aperto gli spazi per andare ad attaccare il PSV. È un giocatore che in questo momento può fare assolutamente la differenza per i bianconeri e può farlo con continuità. Quindi è anche bravo Tiago a lasciargli lo spazio, lasciargli anche il tempo di crescere, lasciargli soprattutto la possibilità di sbagliare perché è questo che fa la differenza soprattutto con i giovani. Nico Gonzalez ha fatto la differenza, ha fatto la differenza in fase offensiva, ha fatto la differenza in fase difensiva perché è stato davvero sempre e sempre il primo a ridurre il gap con la manovra avversaria ed è stato quel giocatore che magari non ti aspetti con estrema continuità nei 90 minuti, ma che invece quando vuole, quando può, quando ha spazio e quando riesce, può fare anche lì la sua figura. Nico Gonzalez che diventa l'arma in più, onestamente, di questa Juventus, diventa l'arma che può cambiare le carte in tavola sia a partita in corso ma anche soprattutto dal primo minuto e diventa soprattutto il giocatore a cui dare la palla, soprattutto quando scotta. Il gol di stasera diventa un premio proprio al merito perché ci ha messo tanto oltre alla rete, oltre al peso offensivo che inevitabilmente ha. Arriviamo a Dujan Vlaovic prima di passare a Tiago Motta e ai cambi. Dujan Vlaovic che prende 6 perché comunque c'è stato l'assist ma ci sono stati anche due errori non da lui, è una spirale negativa quella in cui sta vivendo Vlaovic in questo momento, è una spirale da cui si deve togliere, allontanare il prima possibile prima che appunto diventi un problema per lo stesso Tiago Motta. Vlaovic resta un asset fondamentale di questa squadra ma resta anche un giocatore che va a momenti, va a sprazzi, non è un giocatore decisivo, non è quel tipo di calciatore che ti toglie le castagne dal fuoco. Anche stasera in un contesto più che fortunato, più che positivo, ha dimostrato che se con la testa non è centrato al 100% come lui vorrebbe essere allora fatica e non fatica poco. Andiamo da Tiago Motta, Tiago Motta prende 8 perché come abbiamo detto in apertura di video strappa quel velo di preoccupazione che avevano generato gli ultimi due pareggi e lo fa seguendo le sue idee semplicemente, restando fedele a se stesso, restando fedele alle scelte che aveva fatto sin dalla prima giornata, quindi il dizlargo ci mette anche del suo con la scelta McKennie, dà fiducia ancora a Nico Gonzalez dopo una prova opaca, da questo punto di vista ha trovato anche la quadra difensiva, il gol, ripetiamo, è soltanto una casualità, non è un errore di concetto o del singolo, da questo punto di vista tanta tanta fiducia che torna a generarsi qui a Torino con l'ilno della Champions che sentirete sicuramente in sottofondo, è una Juve forte, una Juve che ha ritrovato anche Danilo che prende 5 e mezzo soltanto per quella sbavatura nel finale, che ritrova Fagioli largo a sinistra, che prende anche lui un 6, che ritrova anche da questo punto di vista un po' di solidità a centrocampo con Douglas Lewis, un ingresso tranquillo, con calma, con i suoi ritmi per un giocatore che probabilmente deve ritrovare anche un po' di forma. Questa è stata la Juventus con il PSV, è stata la Juventus chiaramente, ricordiamo anche l'ingresso di Timothy Weah che prende 6 senza nessuna sgasatura, nessun guizzo anche sulla velocità, una Juve solida, una Juve bella per molti tratti della partita, una Juve che inizia la Champions davvero come meglio non poteva.